La mia esperienza è stata questa, Genova 2001, proteste importanti contro il G8, ve lo ricordate? Finite come sono finite. Finite con la Diaz, finite in quel modo lì, contro il resto delle analogie abbastanza inquietanti tra il gruppo di potere al governo adesso e quello che c'era al governo all'epoca, agli interni ci stava Gianfranco Fini, insomma era una situazione di questo tipo. Io mi ricordo che all'epoca ero negli Stati Uniti e insieme a un gruppo di legali, di studenti dell'Università California, decidiamo di provare a fare un'azione contro il G8 per i fatti di Genova. E iniziamo un'interessante ricerca, devo dire, perché il G8 è una non entità giuridica, non esiste, è un fantasma, è proprio la spectra, non ha una segreteria stabile, non sai dove servirgli gli atti. Cioè tu se devi far causa al G8, che è pure il gruppo più potente, adesso G7, che era comunque diciamo il punto, il clou, il cardine di quella che è l'organizzazione internazionale più potente del mondo, tu non hai modo, non hai modo di sapere come portarlo di fronte a un controllo giuridico. Già questa è una cosa molto particolare e molto interessante. Quindi stiamo lavorando sul punto di diritto, come fai a portare queste cose, avevamo cominciato a sentire decine di testimoni, perché c'erano un sacco di ragazzi americani che hanno preso botte nella Diaz, ce n'erano alcuni a Seattle, siamo andati a Seattle, avevamo costruito tutto quanto. Questo avviene l'11 settembre, no? Avviene l'11 settembre, guardate, letteralmente la settimana dopo è stato impossibile portare avanti quella causa. Non c'era più nessuno, neanche fra i militanti più vittimizzati a Genova, neanche dagli attivisti più, come dire, esposti dal punto di vista di quello che era l'indignazione per quello che era successo a Genova, che fosse disponibile a dare una mano a portare avanti quella battaglia lì. Perché era scattato un dispositivo di patriotismo e un dispositivo di, come dire, di amico-nemico, emotivo, tutto quello che volete, che ha semplicemente posto fine a quelle manifestazioni che erano delle manifestazioni. Genova era l'insurrezione del sud globale nei confronti della globalizzazione atlantica, non è che fosse molto di diverso. C'era proprio, c'era una base, una piattaforma politica globale importante in quella manifestazione. C'era stato Seattle nel 99, ve lo ricordate, poi c'è stato a Genova nel 2001, si stavano elaborando delle cose importanti dal punto di vista della costruzione, diciamo, di un'alternativa di sistema, chiamiamolo così. Senti, una domanda, Ugo. Questi sono agnelli sacrificali grossi, no? Da Aldo Moro, dalle Torri Gemelle, tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Cos'è che porta un pezzo, e magari che pezzo, di potere a sacrificare una parte di quello che fondamentalmente è anche un po' il suo organismo, no? La sua famiglia, il sangue del suo sangue, se vogliamo. Ma secondo me, sai, noi dobbiamo anche cominciare a elaborare delle teorie del potere un po' più consapevoli di quello che è stato detto e scritto da Foucault in avanti, ma da tanti che hanno studiato il potere. Cioè, noi tendiamo a vedere le cose in modo, come dire, antropomorfo, no? Cioè, in fondo, lo Stato è antropomorfo, l'Italia fa questo, l'Ucraina fa questo, la Russia fa questo. Noi abbiamo questa visione, sostanzialmente, come se ci fosse un elemento volitivo unico, come se l'organizzazione istituzionale, burocratica, no? E quindi, in realtà, non funziona così. In realtà, le dinamiche del potere sono delle dinamiche fortemente pluralistiche, il potere è quasi sempre diviso, ci sono interessi che contrapposti l'uno all'altro. Ci sono quelli che, secondo me, è meglio che imperativi del capitale, non possono essere, cioè, vanno descritti come imperativi del capitale. Cioè, sono degli imperativi che portano le dinamiche ad andare in una determinata direzione, ma non c'è, come dire, un elemento astratto volitivo. Ci sono degli elementi materiali che sono in gioco, secondo me. Quindi, io non credo troppo... Io penso che l'idea di dire è troppo tuo fratello per ammazzarlo, sia anche lì una visione semplificata. In realtà, Aldo Moro, come tanti, ha avuto amici, ha avuto nemici. Ricordiamoci anche tutto il periodo della prigionia. E ricordiamoci anche la coerenza, per esempio, di... e la tetragonità, si dice, insomma, il fatto di quanto tetragono sia stato il potere democristiano e il potere comunista, insieme. Perché Berlinguer fu uno dei principali esponenti al fronte della fermezza. E quindi c'era, voglio dire, un compattamento molto, molto importante, no? Ritorno alle ragioni di Stato. Quasi come quello dell'11 settembre che dicevi poco fa. Esattamente. Quindi io credo che queste cose vadano... possano essere studiate, possano essere lette, vadano discusse e possano essere comprese, come dire, in una chiave, appunto, archeologica, no? Vedendo come gli elementi di continuità ci siano. Possiamo anche far finta di non vederli. Possiamo anche dire, ma no, ma oggi siamo in democrazia e queste cose non succederebbero più. Ma adesso, ragazzi, cioè, voglio dire, con tutto il... Io mi sento una persona profondamente democratica. Ma proprio perché sono una persona profondamente democratica prendo atto che la democrazia è, come dire, una chimera e non l'abbiamo certamente raggiunta in Italia, probabilmente mai. Proprio perché non c'è un'autonomia sovrana del nostro paese in nessun modo. E quindi il processo democratico ha un senso nel momento in cui dalla dialettica politica emergono delle decisioni. Se la dialettica politica è puro spettacolare, e qui torniamo a Debord, no? Se la dialettica politica è puro chiacchiericcio irrilevante perché poi tanto le decisioni non le prendono loro e basta vedere come si è comportata la Meloni dopo aver fatto la campagna elettorale antidraghista e di essere stata eletta su una piattaforma sostanzialmente antidraghista arrivata al potere, e beh, non può mica farlo, no? E tutti in qualche modo dicono, eh vabbè, però è così, no? Ce la siamo un po'... Un po' come quando gli americani si sono inventati la rational choice theory, no? La teoria delle scelte razionali in politica. Ci ha preso il premio Nobel Buchanan, hanno scritto delle cose molto importanti. Sostanzialmente qual è l'idea? Ma il politico fa un mestiere. Il mestiere del politico ha uno scopo che deve massimizzare. Lo scopo che deve massimizzare è la possibilità di essere rieletto, ok? Così. Quindi tu puoi applicare, no, il modello supply demand, la cura di sai, tutto quello che vuoi, alla politica. Come fai ad essere eletto? Vai a cercare l'elettore mediano, ovviamente. Nel senso che hai più, molte più probabilità di essere eletto se vai a cercare l'elettore mediano. Se poi dopo tu prendi una posizione pragmatic, che pragmaticamente ti porta a prendere una posizione estrema perché vuoi farti vedere, non vuoi distinguerti. Meloni che dice, io sono l'antidraghi. E becca un sacco di voti perché è l'antidraghi. Piuttosto che Obama che dice, change we can't believe in, chiuderemo la base di Guantanamo e toglieremo l'embargo a Cuba. E la gente, no? Tutti quelli liberal vanno lì tutti contenti, lo votano, partecipano, eccetera. Dopodiché non lo fa. Quando qualcuno glielo dice, dicono, doveva essere rieletto. Come faceva a farlo? Cioè, non è razionale il politico che non vuole essere rieletto. Ergo, non è razionale il politico che tiene una base ideologica. È la fine dell'ideologia. Cioè l'ideologia diventa irrazionalità e diventando irrazionalità diventa qualche cosa... Anzi, tu quasi, il politico che mantiene le promesse, non lo vuoi tanto. Non so come dire. Cioè, quasi preferisci quello che è razionale. Perché se mantiene le promesse, magari è un po' strambo, no? Magari è un po' matto. Magari, capito? Chissà che cosa sta facendo. E quindi hanno costruito, è stata costruita in modo geniale. Qui, ovviamente, tu sei maestro di questo. La costruzione dell'opinione pubblica funziona così, no? Costruisci questa sorta di messaggio per cui quello che ti sembra una persona per bene, pura, che si batte per degli ideali, che non ha un suo piccolo, come dire, ritorno, che non cerca di raggiungere questo, di raggiungere questo, quasi ti fidi meno di lui che non di quello che sai che invece ha una chiara e pelosa piattaforma di prendere voti. Non so come dire, no? Perché non lo capisci. Perché è in qualche modo distante, dissonante rispetto alle aspettative che tu hai del comportamento razionale delle persone. E questa è una delle condizioni, secondo me, del presente particolarmente drammatica e che rende particolarmente faticosa il lavoro politico di chi lo vuole fare davvero. Che secondo te dove dovrebbe ripartire il lavoro politico? Ma guarda, il lavoro politico deve partire dalla parola lavoro politico. me Grazie a tutti.